Era fermo al 27 novembre l'ultimo aggiornamento riguardo al numero di positivi nella città di Agropoli, ma nella serata di ieri la comunicazione del sindaco Coppola di altri quattro cittadini contagiati da Covid. Ho ricevuto novità dall'Asle in merito a quattro nuovi casi di positività al coronavirus nella nostra città, in parte legati a precedenti catene di contatti e in parte situazioni nuove. Nel contempo ci sono anche cinque guarigioni, quindi gli attuali positivi sono 52, mentre i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia sono 62. Anche nel comune di Castellabate, dopo diversi giorni di stoppa ai contagi, il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, nella serata di ieri attraverso una nota stampa ha comunicato la positività di sette nuovi casi positivi al Covid-19. L'Asle mi ha comunicato sette nuovi casi positivi a Castellabate, si tratta di un nuovo positivo asintomatico ed è stata ricostruita la rete dei contatti già tutti in isolamento. Altri quattro sono tutti contatti diretti di un nostro concittadino risultato positivo alcuni giorni fa, così come altri due casi facenti parte del nucleo familiare di un altro caso segnalato giorni fa. La situazione attuale dunque nel comune di Castellabate è di 21 persone positive al Covid-19 e 24 guarite. Rinnovo le mie raccomandazioni al rispetto di tutte le regole anche all'interno delle famiglie, ci tiene a sottolineare la Maiuri e annuncia che probabilmente nei prossimi giorni saranno prese misure meno restrittive in occasione delle festività natalizie, ma tutti quanti noi dobbiamo mantenere alta la guardia e continuare ad avere un alto senso di responsabilità. Preoccupa invece la situazione a Capaccio Pestum, ieri otto nuovi positivi e un cittadino che risultando negativo all'ultimo tampone di controllo risulta guarito. Il totale degli attuali positivi nella città dei Templi si aggiorna così a 91 positivi con 224 persone in isolamento domiciliare e 74 guariti totali. Casi positivi al Covid-19 si registrano anche in altri comuni cilentani e valdianesi, ma tante sono anche le guarigioni dal virus.